le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di domenica 19 aprile ariete oggi riposate lo stress accumulato nelle ultime settimane di lavoro vi mette addosso una strana sensazione e allora pensate al passato toro una luna che rende questa giornata molto romantica in questo periodo voi siete impegnati a fare dei progetti ambiziosi che riguardano proprio l'amore gemelli la luna è ambigua per l'amore evitate di mettervi in situazioni poco chiare state vivendo un periodo delicato cercate di riflettere bene cancro bella questa luna che vi rende ottimisti pronti a tuffarvi in tutte le nuove avventure siano professionali che sentimentali sarete irresistibili leone cercate di curare la vostra forma fisica venere in posizione fantastica favorisce la soluzione dei piccoli problemi un completo recupero vergine il periodo che state vivendo lo ricorderete a lungo perché è destinato a portare tante novità oggi però la luna provoca qualche piccolo malessere bilancia giornata nervosa a causa della luna che rende ogni rapporto piuttosto conflittuale a causa della vostra eccessiva emotività scorpione godetevi questa luna magnifica che promette anche un incontro interessante siete circondati da tante persone che vi vogliono bene sagittario la luna vi disturba ecco perché apparite di umore così variabile cercate di distrarvi il più possibile non pensate ai problemi capricorno sentite il desiderio di starvene un po da soli per riordinare le idee mercurio in posizione negativa vi mette addosso qualche dubbio di troppo acquario è una luna interessante quella odierna che vi rende molto ambiziosi in amore ci sono da superare alcuni piccoli contrasti la giornata è buona per una riappacificazione pesci luna nel vostro segno mette in evidenza i sentimenti rapporti personali è la situazione ideale per delle persone sensibili come voi e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus